tanto per te borsa, prima un piccolo contributo per mostrarti tutto quel legno, il capolavoro adesso poi tutto migliorabile che è venuto guarda, è tutto diviso adesso magari non rende molto con queste inquadrature però qua tu hai un posto dove praticamente da qua parte una vera e propria dispensa dove puoi mettere tutte quelle cose brutte che in casa non vuoi, c'è comunque ancora molto da migliorare però diciamo che lascio impronta per questo verità rossa, molto grande